Si è concluso ad Andrea il primo roll show in Puglia in educazione finanziaria e autodeterminazione economica, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, un evento che ha permesso di portare nelle sei province pugliesi da giugno scorso temi, informazioni e consigli dedicati alla programmazione finanziaria personale e familiare. L'autodeterminazione è stato il termine chiave di questo percorso perché noi ci siamo ricordate delle donne che hanno subito violenza a partire proprio dalla violenza economica, perché noi, lo dobbiamo dire, continuiamo molto spesso a delegare i nostri compagni, i mariti, i fratelli, i padri e quindi autodeterminazione ci è piaciuto come termine, è stato scelto proprio da tutte le commissarie perché ci si possa possessare della cultura e renderci a quel punto anche autori e indipendenti, dice bene. Non un corso formativo ma semplicemente un ciclo di incontri per capire anche lo stato di conoscenza delle tematiche finanziarie affrontate soprattutto dal mondo femminile in età da lavoro, grazie anche all'ausilio di questionari ad hoc costruiti con l'Università degli Studi Milano Bicocca che ora ne divulgerà anche i risultati. Una grande attenzione verso, soprattutto verso le novità che in questi mesi, in questi anni ci stanno assalendo, lo stiamo riscontrando in tutti gli incontri, certamente c'è una vivacità particolare, è chiaro che esattamente come gli uomini siamo un po' tutti in difficoltà in questo mondo che cambia, in cui le cose cambiano velocemente, le regole sono molto complesse e quindi abbiamo tutti bisogno di imparare. Ecco, se posso dire una cosa, le donne hanno una straordinaria grande, toccata per me, con me e da me direttamente, voglia di imparare. In tutti i suoi incontri informativi è stato presente proprio l'avvocato Massimo Melpignano, esperto in materia bancaria e finanziaria. Ad Andrea poi è stato ospite invece il giornalista Luca Bau, che ha percorso un viaggio nel mondo del risparmio ed in particolare in quello del food. Tecniche di comunicazione, esempi pratici di come l'ambiente e la psiche possa condizionare anche il portafoglio. Facciamo un esempio pratico, il classico esempio della nonna. Mia nonna diceva, andiamo al supermercato a stomaco pieno, questo è importante. Se per esempio vuoi andare a comprare un vasetto di miele, mi è capitato, alla fine esci dal supermercato e quel vasetto non l'hai comprato. Evento, come detto, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, che continua il suo gran lavoro di concerto con il Consiglio regionale per la parità di genere e dei diritti. La nostra commissione, forse poco conosciuta, ma ha un ruolo importantissimo nell'ambito del Consiglio regionale, perché noi siamo propositive, propulsive, quindi raccogliamo le istanze del territorio per trasferirle in Consiglio regionale e ovviamente è un lavoro che comporta tanta difficoltà.